Amici di Corsa di MotoTV, vincitore Moto2 qui alla Fini Junior GP World Championship di Misano, Alberto Sura. Ciao Alberto. Ciao a tutti, ciao Filo. Allora, secondo anno in Moto2 al CEV, adesso si chiama Fini Junior GP, una bella vittoria, una bella battaglia anche, però hai ribadito i tempi e le prestazioni fatte vedere in qualifica. No, no, è stato un bellissimo weekend, già partito dal giovedì, senza cadute, senza problemi tecnici. Ho cercato di migliorarmi sempre di più, non tanto sul giro secco ma sul passo gara e siamo riusciti a trovare un buon setting, anche se le condizioni della gara secondo me non erano ottimali. Però sono riuscito ad avere un buon passo e abbiamo azzeccato le gomme, che adesso da Pirelli e Dallop mangia tanto la Pirelli, ha un buon grip, però devi gestirle bene e sono riuscito a gestirle, quindi sono contento. Alberto, quanto ne avevi ancora oppure eri proprio già al limite? No, allora ho cercato i primi due giri di scaldare bene la gomma davanti perché comunque non è come al mondiale qui che partono tutti velocissimi al giro di ricognizione, quindi ho cercato di scaldare bene la gomma al giro di ricognizione. Poi ci siamo fermati 20 secondi prima della partenza e già lì la gomma si raffreddava. Poi dopo ho fatto due giri un po' per spingere, sono riuscito a fare 37.1, 37.2, poi al passo 37.5 non ero tanto impiccato, cercavo di... ci vedevo sempre che era dietro Garzia, però comunque ce l'abbiamo fatta e sono contento. Allora, detto che tu il mondiale l'hai già toccato con mano sia in Moto3 che in Moto2 l'anno scorso quando hai fatto delle apparizioni con Forward, con ripreciati Bosco Scuro, lo sapete tutti, Bosco Scuro c'è il team al mondiale. Una stagione è fatta bene qui al CEV, potrebbe aprirti le porte di fatto a rientro in Moto2 al mondiale? Sì, allora, gli altri anni sono stati con la Forward, è stato un bellissimo allenamento perché comunque mi ha fatto capire che c'è da lavorare e ho lavorato sui miei punti deboli e quest'anno secondo me manca solo l'ultimo tassellino perché tanto c'è sempre da migliorare. Sì, l'intento è quello, adesso con Luca, tanto siamo ancora alla prima gara, però comunque facendo questi risultati qua, sempre, sempre... Ti voglio mettere in bocca cosa che non vuoi dire. No, no, ma fai bene, però a me viene da dirlo solo quando si firma. Assolutamente, però il pensiero è, se Sura fa una bella stagione, Fermin lo sappiamo già, non ci sarà più, comunque un posticino c'è, insomma, se c'è la possibilità oppure ti stai guardando, oppure ci sono altre possibilità? Adesso sto guardando solo me stesso perché devo ancora incominciare il campionato, io dico. Quindi secondo me bisogna concentrarsi bene sulla prima metà di campionato e fare dei risultati per poi dopo vedere un attimo quali sono le opportunità e capire un attimo con tutto. Allora, ne parlavamo ieri o venerdì nel paddo, chi è te, no? Ok, vice campione italiano della Moto3, una bella carriera mondiale, e adesso siamo al CEV, ma siamo al CEV in maniera importante, c'è qualcosa in realtà che non ha funzionato, no? Quando sei stato in Moto3 a mondiale non c'è problema a dirlo, eri con la VR46 e non sei il primo, ecco, diciamo, ce l'ha anche tutta, che insomma l'ingranaggio si è un po', come dire, si è fermato. Cosa è successo lì? Perché poi hai corso anche il rischio di fermarti definitivamente? Sì, allora, sono stati anche lì degli anni che mi hanno insegnato a mettermi in bolla sia di testa che a livello di fisico, ma quando sono ritornato fuori dalla VR, cioè quando sono ritornato da Torino. Quando ero in VR con tutti i ragazzi, con MIG, con Pecco, con Vale, con tutti, io ancora mi ci sento e ho un bellissimo rapporto. Ci sono state delle cose a livello interno che non hanno funzionato sia da parte mia che da parte loro, ma io non ho niente, anzi, ringrazio per la bellissima opportunità che mi hanno dato per avermi dato questa facciata sul mondiale, sui team un po' più importanti, però comunque sto cercando di avere un'altra strada sulla Moto2, che secondo me è quello che mi si addice, spero il mio fisico, è di lavorare su quello. Perché sai Alberto, alcune volte guardando da fuori la gente può pensare che magari si credeva arrivato, VR, Mondiale Moto3, poi vedono le prestazioni che in realtà sono state inficiate da un sacco di infortuni e dalla tua corporatura, che lo dicevano sempre, non era proprio adattissima alla Moto3. Per cui ecco, io ci dobbiamo dirti che tu in realtà non ti sei mai montato la testa, ho detto, sono arrivate, è fatta, è che lì proprio non hanno funzionato una serie di cose, tra cui forse anche il rapporto pilota-tipo di moto, che non poteva funzionare. Ma allora, cioè praticamente, io sono venuto ad abitare da solo, e quindi a 16 anni abitare da solo è stato difficile, ma non mi sono mai montato la testa, anzi, cercavo sempre di lavorare, di mettermi sempre ai giochi, però non hanno funzionato delle cosettine interne, quindi non... va bene così, cioè ma io ho un bellissimo rapporto con tutti e ci tengo a tenerlo sempre in buoni rapporti, perché comunque non mi hanno mai fatto niente di male. No, no. E quindi va bene così. E poi c'è stato lo spettro, caro Alberto, anche su questo scherzavamo, no? Come è stato fatto un po' per ongiu, quando il buon soffoglio, adesso non fai risultato e vai a lavorare. C'è stato un attimo questo momento in cui la tua famiglia, non dico per riportare i piedi per terra, ma per farti capire magari la differenza che c'è tra vado a lavorare o faccio questo sport, per darti anche una carica in più, no? Certo, e quello mi ha servito tantissimo, perché capisci il valore dei soldi, il valore... cioè quando tu ti fai il culo, scusate, però apprezzi di più, perché noi siamo dei privilegiati in questo mondo, e se uno non lo capisce, cadi sempre di più nel tranello, che è tutto dovuto, è tutto facile, invece quando tu capisci anche l'ambiente lavorativo a 18-19 anni, apprezzi di più questo mondo qua, quando sali sopra la moto e cerchi di dare sempre il massimo, perché capisci che è tosta l'altro mondo. È tosta? Ma guardandoti mi sembra che oltre a vincere le gare andrà molto forte, e comunque tu ti sei messo anche a posto fisicamente, ti vedo bello tirato, quindi evidentemente durante la settimana poi non stai con le mani in mano se non giri in moto. No, 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 io vado tutti i giorni in palestra con il mio preparatore atletico Matteo Meneghetti, che saluto, e anche col mio mate degli allenamenti, Mattia Capogrego, che corre nel CIV, che ringrazia anche lui, mi sta dando una grossa mano, e stiamo facendo un bellissimo lavoro, e in più quest'inverno non mi sono allenato tanto con la moto, perché avevo delle moto, cioè diciamo che abbiamo avuto dei problemi meccanici, però sei riuscito a metterla a posto, adesso è tutto in salita, ma ci sono anche delle discesine. Per ogni salita, caro Albi, lo sai, ci sono qualche discesina. C'è, chiudo dicendo che va bene, hai ringraziato il team, la famiglia, ci mancherebbe altro, tutti i tuoi sottotitori, ma hai fatto una dedica particolare prima in sala stampa, che a me è sembrato, perché mi ricordo già dai tempi del CIV, che tu dedicavi spesso a nonno, poi purtroppo non è venuto a mancare, io credo che tu voglio fare una dedica speciale. Sì, mio nonno è mancato quando io ero ad Austin in America a fare la gara, quindi non gli ho dato neanche l'ultimo saluto. Io non sono uno tanto che fa vedere che, diciamo che ci tengo le persone, ma io internamente ho questa cosa che ci tengo tanto ai miei cari, e alla mia famiglia, e certe volte sono un po' scontroso, ma lo faccio per tenere l'animo, animo. E volevo dedicare questa gara al mio nonno, che è mancato da cinque anni, che non sono riuscito più a fare una vittoria, adesso colgo l'occasione, perché è anche grazie a lui che sono qua, perché lui correva in moto e tutto. Le vittorie di Sura vanno dedicate al nonno e gli evitano di andare a lavorare i lavori, quelli che si intendono normalmente, quindi dai, per un po' ti sei salvato. Mi raccomando, concentrato e gas. Alla grande, ciao a tutti, grazie.